Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, scusate ho fatto un inizio di video ma mi è cascato il telefonino e non ho potuto più terminarlo perché si è sbilanciato questo cavalletto, vediamo un attimo se è fisso, ok, allora vado ad aprire appena arrivato questo pacchetto di passione unghie e ho preso non tante cose però per fortuna qualcosa di più simpatico, dei glitter gialli, grazie passione e grazie anche per l'adesivo che vedrò poi che colore è perché si capisce se è bianco o che, andiamo a vedere insieme, vabbè lo vediamo dopo perché sennò ho paura che non riesco a digitare. Allora io ho preso delle piccole confezioni, questo qui praticamente che è Frozen Pink che voglio vedere un attimo fare una recensione con voi di questo prodotto, poi ho preso quest'altro structural builder e poi ho preso questo per non pagare la spesa della spedizione, tanto è una cosa che si usa il builder e in continuazione per cui ben venga che ne viene un altro e poi ho preso invece il Milky Builder che dissi proprio a loro sul sito ma quando lo prendete il Milky cioè un latiginoso bianco l'avano preso ma non sono riuscita io tra una cosa e l'altra a prenderlo e poi ho preso HD base che è estrema base, no ho sbagliato HD, è estrema base volevo per vedere non che io abbia sollevamenti ok però può succedere ci sono state delle persone che hanno avuto delle problematiche in passato con altre cose io per avere una cosa in più ho preso questa base qui anche perché è col pennelletto poi anche Alfa è col pennelletto e possiamo usarla però sinceramente vi dico preferivo avere anche uno di passione allora è un bel latiginoso, è bello denso io cercherò di farnele su di me per vedere un attimino calcolate che non l'avevo aperto il pacco per cui ecco qua guardate che casino che sto facendo e praticamente si dice che assomiglia al cremi e a quell'altro però io fino a quando non vedo con gli occhi miei non credo a quello che si dice in giro perché tra una persona e l'altra diciamo che i prodotti o perché si lima meglio o perché io invece guardo molto il fatto della limatura sì però guardo molto la resistenza e sinceramente per quanto vi devo dire invece del Pinky Builder ve lo straconsiglio come durezza come cioè siamo veramente a un livello bello tosto per cui quello lo straconsiglio è più duro anche del cremi per cui questo vedremo un attimino che risultato cioè se mi piacerà quanto quanto quello e poi sono proprio curiosa infatti ho preso ecco qua vabbè lo lascio aperto così poi lo pulisco e di prendere di vedere quell'altro allora questo qui mi hanno detto che c'ha le fibre poi dovrò andare a vedere bene sul sito io compro poi metto là e poi controllo e vediamo un attimino questo qua è quello blu praticamente con anche sì secondo me c'è là le fibre vedo un qualcosa dentro molto sottile vabbè vedremo e questo qui praticamente è sempre della serie di questi gel builder builder vabbè praticamente vedremo anche questo come poi c'è la novità che tutte già avete sicuramente provato che è questo qua il frozen il frozen che dice che non brucia sono curiosa del colore e della resistenza perché con il discorso del colore è stupendo per me ci sono delle fibre dentro ecco per esempio tante persone parlando non si rendono nemmeno conto che ci sono delle fibre adesso andrò sul sito e vedere eccole qua le vedo proprio in trasparenza e però con tutte le fibre non dovrebbe bruciare a meno da quello che dicono la colorazione a me piace molto e ve la mostro guardate io non so se voi riuscite a vedere questa cosa ma ora ve la faccio notare anche di questo guardate sto parlando senza andare a vedere sul sito allora per me anche questo ha delle fibre non so se di vetro di seta o di che cosa e non ho il pc qua non posso aprire tra poco lo farò ve lo darò facendo una diretta per cui vediamo un attimino ma sono certa che questo anche alle fibre comunque questa colorazione qui a differenza del pink che è molto più rosato l'ho appena usato per una cliente e è molto più rosato il pink lo vedete per cui a me questa colorazione mi piace tantissimo la trovo bellissima e sarà uno tra gli altri gel dopo che l'ho provato per vedere la resistenza se sicuramente prenderò però ripeto sono stufa di avere questi barattoli vecchi perché adesso c'è la nuova versione no cioè la loro uscita con praticamente tutti i gel fatti anche con i barattoli dell'acrigel scusate tutto sparco per cui non vedevo l'ora di anche perché ne ho tanti anche di scorta e sinceramente preferivo io l'ho messo nelle note però sicuramente di questi piccoli poi era sicuro che non avevano e dovranno smaltire questi però quello lì del milti mi aspettavo che arrivava già non ne avranno venduto tanto queste sono le mie dermatiti perché tocco tutto quanto senza e vediamo anche l'estrema base il regalo che hanno fatto vado proprio veloce scusatemi ma è impossibile guardare carini glitter sto sporcando tutto vabbè li vedete sulle mani sulle dita e li rimetto nella bustina se non mi riempie tutte tutte le scatole dei glitter che ho e passiamo a vedere un attimo questa estrema base senza glitter perché sennò riempio l'estrema base allora un po quant'è allora lattiginosa bianca quello già l'avevo visto dalle recensioni di altre persone è molto più densa della base che abbiamo noi però vedo che la stendono comunque sempre un pochino leggera per cui proveremo anche questa vediamo che risultati cita e la proverò sicuramente con il milky e un bacio grande al prossimo video e spero che tra poco di fare la diretta per voi stare con voi vedere un attimo quello che avevo promesso ma questi giorni scusate qui è stato veramente veramente un macello grande e per il fatto del del tempo il mare si è avvicinato molto di più alla strada per cui gli alberi sono caduti ci sono stati tanti tanti problemi nella nostra zona e anche a roma ne sono certa tantissimo però ieri mi sono veramente spaventata e avrei voluto fare il video ma sinceramente non non sono riuscita per il mal tempo anche la mia connessione del cellulare non mi permetteva assolutamente di di fare il video perché non avevo nemmeno la connessione sul cellulare cioè andava e veniva in continuazione per cui io un bacio grande ve lo do a tutte quante spero che tra poco verrete a vedere la diretta sempre se riesco a farla la dovrò fare costretta con il cellulare perché ho timore che anche oggi con il tablet non riusciremo per cui un bacio grande a tutte a dopo ciao